La parola che ho meno sentito stasera, ma è decisiva, è la parola che per gli economisti è la regola, cioè competizione. Non l'ho trovata in nessuna slide, ma per l'economista cos'è che costringe le imprese a innovare? Chi non innova chiude, se c'è sufficiente competizione. Il paradosso di questo paese è che a metà anni 90, quando arriva questa rivoluzione tecnologica del mondo ICT, la produttività accedera in tutto il mondo, frene in Italia e se guardate gli ultimi 15 anni siamo continuamente andati indietro. La produttività per ora lavorata, la produttività per addetto del paese, nord, sud, privato e pubblico, si è ridotta negli ultimi 15 anni. Perché? Beh, me lo sono domandato tante volte. Evidentemente, ho attenzione, anche il discorso che l'estero non viene qui, l'estero ci sta comprando tutti. Perché non siamo scadenti e non è che i cervelli italiani sono diventati cieli. Cioè, non fatemi trarre in inganno dal fatto che abbiamo mandato un clown a Palazzo Chici. Non siamo diventati stupiti. Quella ha aperta una linea, adesso da dieci anni i comici vanno in politica. Ma quella è un'innovazione che il mondo ci invidia. Far ridere è sempre meglio che far piacere. Vediamo ai problemi veri. Perché questa innovazione, che altrove fa aumentare la produttività in Italia, no? Nel pubblico e nel privato. A nord e a sud. Beh, per l'economista ci sono due problemi. Uno è che l'ICT è fondamentalmente un'esternalità. Tu puoi essere un mago con internet, ma se i tuoi altrove non rispondono, tu sei fermo. È come un linguaggio, è come imparare a leggere e scrivere. Perché noi paghiamo per la scuola degli altri. La scuola elementare è obbligatoria e gratuite e io contribuente sono dietro con le mie tasse che gli altri imparino a leggere e scrivere. Se no, come comunico con gli altri, se quelli non sanno leggere. Pensate al dramma che abbiamo adesso di aver affidato le nostre nonne abadanti con cui non riesci a parlare. Se le avessimo prese che sapevano l'italiano era meglio. L'ICT è un'esternalità. Non ci sono guadagni di produttività se la rete non è chiusa, se tutti non sono collegati. Se qualcuno spegne il computer e va al mare, io rimango cieco finché quello non torna dal pote e così via. attenzione, perché gli italiani preferiscono il cellulare al computer? Perché ti insegue anche a letto. È drammatico che ora suona il mio cellulare. Il mio computer no, lo chiudo e vado a letto. È un'esternalità, ma questo significa che non può risolverlo l'individuo. L'esternalità è l'azione pubblica. Tutto ciò che è esterno a me non posso aspettarlo dalla benevolenza del macellaio, come avrebbe detto Adam Smith. Perché le esternalità sono la condivisione e la condivisione nessuno te la regala se non ha convenienza. L'altro discorso drammatico è che questa è una best practice che ha senso solo se sostituisce la precedente tecnologia. Ma noi siamo l'unico paese al mondo che l'ha aggiunta. Entrati in un qualunque ufficio. C'è il fax, la fotocopiatrice, ci sono tutte le stagioni, c'è la carta a pote. Io scopro studenti che vengono a Londra, si facciano una conferenza, arrivano tutti con loro computerina. Non ce n'è uno con carta e matita. Ma in cattolica lo studente generoso prende appunti per il compagno malato e scrive con carta a carbone. Che bello, andate, siete mai entrati in una cartoleria? Chiedete quanta carta a carbone c'è. È un esperimento che io faccio una volta all'anno. E aumenta la produzione. C'è rossa, nero, c'è. Ogni partito alla sua. C'è rossa, nero, blu. Te le danno finché vuoi. È una produzione in acquesso. È drammatico. È una grande invenzione di un secolo fa. Per farla breve, noi non abbiamo sostituito, abbiamo aggiunto. Quindi la produttività cala. Quando tu hai tanti modi di fare le cose. Io ricevo la stessa posta dalle poste che abbiamo risanato, a parte i castigli di questi giorni, ma in generale ci vantiamo che abbiamo le poste efficienti. Non mi arriva una lettera dagli Stati Uniti da otto anni, ma me ne arriva diciotto come sempre in Italia tutti i santi giorni. Più tutte le mail, più tutti gli sms, più tutto il resto. Oggi la mia produttività è in calo e non sono diventato stupido. Ma quando mi arriva la mail di chi mi dice mi mandi un fax per piacere. Io mi avranno l'ho buttato via dieci anni fa, adesso devo comprare un fax. Perché la gente insiste, Aspen in particolare, è il progresso, è in tre volte. Aspen vuole i fax, non vuole le mail. Eh, non faccio novi, vero? No, non si fa no. No, ma è drammatico. Questo paese, oh, per esempio, 8.000 comuni hanno tutti un sito web dove c'è la foto del sindaco, lo statuto, mai che c'è scritto come si fanno le pratiche senza andare a fare la coda. A volte puoi stappare il modulo e poi devi fare la coda. Come gli avvocati in tribunale qua vicino. Allora, l'idea che questo è un nuovo modo di produrre, molto più efficiente, come ne sono state queste varie innovazioni nel secolo, in questo paese non è ancora arrivata. E quindi più noi diffondiamo ICT, eccetera, più la produttività si riduce perché viene continuamente aggiunta al vecchio. Come se ne esce dall'escrizione di questo tipo? Beh, stiamo riscoprendo, l'ha detto Draghi il 31, l'ha detto l'Ocse venendo qui il 4 maggio quando l'operazione Tremonti è stata, hanno detto che siamo bravi. Fate il piacere a volte, leggeteli i documenti, così almeno potete dire abbiamo dei ministri che dicono le bugie. Nel rapporto Ocse presentato a Milano, in un grande albergo qua vicino, con Poppa Magna e quattro ministri, ci sono 35 pagine su cosa dovremmo fare per avere un'università degna di un paese civile. È drammatico. Perché c'è un riquadrato di una pagina dove dice buona l'idea della Gemini di migliorare la governance degli atenei, introducendo stakeholders e non solo vecchi valori al governo degli atenei. Poi 34 pagine su cosa dovremmo fare se vogliamo avere delle università in grado di attrarre i migliori del mondo. E quindi competizione, fees, fatte come Dio comanda, borse di studio, tutto quello che fanno il resto del mondo. La linea ufficiale, nessun giornale l'ha scritto il giorno dopo, la linea ufficiale era, sono venuti a dirci che la Gemini è brava. 35 pagine per dirci che la Gemini è brava. Quando ho visto il rapporto ho detto questa è una bufala. Quando l'ho letto mi sono arrabbiato, però arrabbiarsi non serve in questo paese. Posso solo vendicarmi dicendo d'ora in poi non leggete i quotidiani che dicono che il governo è bravo. Ma nemmeno quelli che dicono che il governo è inutile. Uno inquadrato sulla Gemini positivo c'era. Peccato che le altre 30 pagine. Oh, anche Draghi l'altro giorno ha scoperto che ci vorrebbe la concorrenza tra le università per migliorarle. Eh sì, è quello che sappiamo da sempre. E io aggiungo sempre, è fare esami seri, una sessione estiva, terza settimana di giugno, esami scritti, corretti in modo anonimo e valutati in modo ordinale. First Oxford è chiaro cos'è, è il primo decine. Perché la competizione non la potete fare fra i rettori, la dovete fare tra gli studenti, se volete che i cervelli migliorino. Se noi perdiamo sempre tempo, non escono innovatori. Beh ma, scusate, ripetere da pagina 16 a pagina 18 un libro produce innovazione e farlo orale senza testimoni, cosicché le belle ragazze e i bei coniomi hanno sempre la media più alta, solo in Italia. Mi sembra il modo per stimolare l'innovazione. Quando è che facciamo una norma che dice la terza settimana di giugno si fanno esami, scritti e corretti in modo anonimo, vinca il migliore. Oh beh, l'innovazione non è una rivoluzione questa. In questo paese oggi è una rivoluzione. Secondo voi i figli di Tremonti cosa hanno preso l'università? Uno che si chiama così. Eh ragazzi, ma non siamo micompensi, è serio, lo sa tutto il mondo e non mandano qui i loro migliori. E inutile prendercela con l'ICT, se tu sei antimeritocratico e l'innovazione è, la vedi in televisione la sera. Allora, è chiaro che l'innovazione in questo paese è una rivoluzione. E da domani smettiamo di scherzare. Io non so quando succederà, ho scritto una cosa per il mulino e termino dicendo sul perché questo paese non cresce. Primo o poi, non so se fra uno, dieci o cento anni, qualcuno farà tornare a crescere l'Italia. Non sono pessimista perché la storia ci insegna che c'è sempre speranza e che nessun paese è mai stato per tutto o per sempre. Qui abbiamo iniziato 15 anni di regresso. Quanto andremo avanti a non usare nel modo corretto come la competizione richiede, le nuove tecnologie. Ho attenzione, nel privato, la manifattura, grandi innovazioni di tutto quello che può fare un cervello bravo, ma è tutto nel prodotto, è tutto a ridurre la concorrenza, migliorando il tuo prodotto al punto tale da renderlo customer pensato per il cliente singolo e così via. È come la camicia che mi fa bandelli, ma la fa solo per me e io non vado a comprare camicie fatte per tutti. E allora se andiamo avanti che il manifatturiero italiano, lavorando per i ricchi del mondo, produce prodotti unici, senza competizione, siamo ancora bravi, appetibili, facciamo soldi, per inciso tutti i nostri migliori marchi stanno diventando francesi, tedeschi, greci, non più o male, e così via, cioè non siamo mica diventati tutti stupidi, ma è il paese che non funziona, perché la competizione e quindi l'innovazione di sistema non è la regola del gioco. Tu puoi competere facendo prodotti che nessun altro fa e quindi tu sei il numero uno. Questo è un modello di selezione che seleziona chi, come dicevo, fa i soldi lavorando per i ricchi del mondo. Quanto si va avanti? Beh, per ora è abbastanza bene. A ottenzione in giro non è vero che c'è una tragedia come dice l'opposizione. Io conosco un frango di imprenditori che hanno fatto una barca di soldi, li incontro negli aeroporti. In questi anni di crisi, di crisi qui, quelli fanno soldi, perché il mondo cresce e questi negli aeroporti sono tutti contenti, girano il mondo, crescono ovunque meno che qui. Questa è l'altra dissociazione. A marzo esce un rapporto sulle multinazionali italiani. Interessante campioni. Ci siamo un paese che ha le più piccole multinazionali del mondo. È perché la crescita essendo altrove, tu diventi multinazionale quando hai ancora 300 o 400 dipendenti, che è un miracolo della natura, visto che quando ero bambino multinazionali erano americane grandi e cattive. Erano le multinazionali. Adesso sono italiane brave e piccole. E però che paese nasce dietro a un enorme successo di geni imprenditoriali a condizioni che siano piccoli e globali. La miseria sia un paese unico al mondo. E gli altri? E gli altri che fanno? Perché questi sono i pochi che continuano a fare una barca di soldi ovunque. E in assenza di un governo, io non vedo come, cioè ci abbiamo rinunciato da anni, diciamocelo, quando mi chiedono cosa penso del governo, dico, oh beh, ce l'abbiamo, non me ne ero accorto. In assenza di governo, un ICT che è esternalità e che quindi deve essere fortemente messo dentro del sistema da chi ha responsabilità collettive. Avere un governo è un'invenzione che l'umanità ha fatto già di tanto tempo, perché per le cose collettive i governi servono. Oh, queste cose non sono né di destra né di sinistra, ma rimettere l'innovazione al centro del sistema è una rivoluzione con immediati costi politici. La puoi fare il primo anno di una legislatura, non certo in coda, e la puoi fare se ti va bene usare la polizia per calmare la gente. Quando Cameron ha triplicato le tasse di Oxford, si è trovato gli studenti a Londra in piazza e per una settimana hanno fatto botte con la polizia. Poi ho chiesto come è andata a finire. Beh, gli studenti l'hanno spesso di prenderle dalla polizia. Ci vuole un certo coraggio. Non potete pensare che le riforme che servono non abbiano costi politici.